Domenica 6 luglio sono a Roma nei giardini dell'ambasciata di Palestina con Bassan Salè per parlare di nuovo dell'esplosione di violenza nella striscia di Gaza e come è fatto quasi inedito, la violenza è anche in Occidente, anche a Roma, la sentite addosso quotidianamente? In realtà gli scontri, le violenze sono non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, anche indietro alle linee verde, cioè ai confini del 48, interno del 48. È una violenza voluta con determinazione da parte dell'occupazione israeliana perché con la scusa o col pretesto della scombarsa e l'uccisione di tre coloni israeliani hanno scatenato una violenza inaudita in tutta la Palestina, in Cisgiordania, a Gaza, a Gerusalemme, non c'è una città in Palestina, non c'è un quartiere, non c'è un villaggio, un campo profugo dove non c'è una violenza. Questa violenza è una cosa inammissibile nel momento in cui ci stava un processo di pace dove sono stati i governanti israeliani a bloccare questo processo e a fermarlo e di conseguenza tutto il mondo si è fermato dando la colpa anche ai governanti israeliani. Fino gli americani hanno detto che sono stati gli israeliani a fermare questo processo di pace. Ora, Israele sta in un momento difficile, lo sappiamo perfettamente, a livello di politica internazionale. Sono forti militarmente nei territori occupati ma a livello internazionale stanno praticamente all'angolo e questi devono trovare il modo per dire che i palestinesi sono violenti, i palestinesi sono sempre la colpa di chi sta sotto occupazione, ma mai la colpa dell'occupante proprio, che è la causa di tutto quello che sta succedendo. Perché se non c'erano l'occupazione non sarebbero spariti o scombarsi o uccisi questi tre israeliani, non sarebbero uccisi ben 16 palestinesi in questi ultimi giorni, non sarebbero entrate in galera più di 750 mila palestinesi dal 67 a oggi. È sempre la stessa storia, la violenza chiama violenza, è normale che in un contesto di occupazione militare la tensione sia sempre alta. Però appunto, come ti chiedevo prima, ci sono state anche violenze, anche aggressioni da parte sionista. La manifestazione di stasera è proprio di solitarietà nei confronti del popolo palestinese, anche proprio nei vostri confronti, anche in Occidente, anche nella nostra città. Certamente, perché la violenza è sempre del genere, da una sola parte, perché dall'altra parte noi rispondiamo ancora e a Roma non si risponde perché crediamo che Roma è una città tollerante, una città di pace e va garantita l'agibilità politica di tutte le persone che vogliono manifestare il loro dissenso della violenza e della guerra. Qui abbiamo subito più di una cosa, l'ambasciata è stata per ben due volte imbrattata i muri con scritti o scene e poi una sparatoria davanti all'ambasciata, anche di qualcuno che camminava, non si sa chi, ha sparato anche davanti all'ambasciata. Non solo, ma ci sono anche cittadini italiani solidari con la palestina che sono stati bestati, con il vero senso della parola, vicino a Piazza Venezia seguendo il ragazzo, il cittadino italiano che stava scabbando, di questo giustamente perché portava questa cheffia, che io voglio avere sempre l'onore di portarla in giro per Roma tranquillamente, senza essere menato o bestato. Grazie a tutti!